Molto bene il Governo, con queste misure andremo a colpire quello che i corrotti temono di più, il carcere e i loro patrimoni. Carcere sicuro anche con patteggiamento, sicuramente confisca in modo più rapido e certo e andremo anche a farsi restituire tutto quello che i corrotti hanno preso ed è stato accertato durante le indagini.